Uniti nel ricordo per non dimenticare affinché queste tragedie non accadano mai più. Fano, Mondolfo, Frontone e Senigallia si fermeranno domani in memoria delle vittime di Corinaldo. Era la notte tra il 7 e l'8 dicembre 2018 quando la discoteca Lanterna Azzurra persero la vita 5 minorenni e una giovane mamma di 4 bambini. L'iniziativa che si terra domani in piazza 20 settembre è stata organizzata insieme al COGEU, il comitato di genitori e ragazzi che si è costituito dopo quella notte indimenticabile. È un ricordo durante il quale si faranno delle letture personali ma anche i ragazzi si presenteranno per far capire che sono ragazzi che sono stati capaci di trasformare il loro dolore in qualcosa di molto utile perché l'associazione COGEU da questa vicenda ha redatto un codice etico ed anche un manifesto grazie al quale i comuni si impegneranno e tutte le realtà a far sì che i nostri ragazzi possano essere al sicuro. Noi come comune di Fano lo abbiamo già adottato per cui sulla scia di questa indicazione, questa giornata nello specifico, ci vedrà qui, ritrovate le 18.30 sotto l'albero in forma ridotta perché purtroppo quest'anno non possiamo fare altrimenti ma faremo una diretta Facebook sulla quale ci potrete seguire. Ci dispiace tanto non poter essere tutti presenti come una catena umana come quella che abbiamo costituito l'anno scorso ma vi invitiamo a seguirci in piattaforma perché queste sono le disposizioni. Per tradurre al meglio il significato di questa giornata, precisa Brunori, ci siamo messe all'ascolto dei ragazzi. In caso di maltempo l'iniziativa si svolgerà nella sala della Concordia. L'incontro potrà essere eseguito sulla pagina Facebook del comune e sul profilo del sindaco Massimo Seri. Oggi pomeriggio nella chiesa di Gimarra è stata celebrata una santa messa per Benedetta Vitali a Marotta. Invece mercoledì 9 dicembre alle ore 20.45 si terrà una veglia di preghiera in memoria di Asia Anasoni e delle altre vittime alla chiesa parrocchiale di San Giovanni Apostolo. Sarà possibile seguirla anche in streaming sul sito della parrocchia. Inoltre il comune di Corinaldo anche quest'anno allestirà per tutta la notte un faro luminoso puntato verso il cielo da piazza al terreno. Un gesto simbolico, ha detto il primo cittadino Matteo Principi, con il quale vogliamo offrire un momento di riflessione e di preghiera, uno spazio di luce che sia di speranza.